Una buona serata a tutti da Marco. Dopo aver vissuto una settimana caratterizzata da forte instabilità su tutta la penisola, oggi finalmente il tempo ha concesso una tregua, ma la depressione presente a largo delle coste occidentali dell'Europa da domani tornerà verso nord ed in questo movimento spingerà una goccia fredda in quota sulla nostra penisola, favorendo di nuovo instabilità per la giornata di domani al nord Italia e parzialmente al centro, mentre per domenica temporali si potranno manifestare su buona parte del territorio nazionale. In Abruzzo nello specifico anche il sabato potrà risultare complessivamente una buona giornata, solleggiata al mattino e con nuvolosità irregolare nel pomeriggio, non si escludono però occasionali precipitazioni sui rilievi. La ventilazione è sempre debole di direzione variabile ed il mare calmo. Le temperature minime della notte comprese tra 13 e 18 gradi, mentre le massime di domani in ulteriore leggero aumento e comprese tra 21 e 27 gradi. E tutto per la meteo, buon proseguimento di serata.